La testa la vede, uno è sotto lì, e l'altro è sotto lì, e questi qui sono galla, questi qui piccoli. Ma questi, mamma questo che roba baffo. No, no, sono più piccoli degli altri. Ma c'è poco filo, c'è poco filo. No, è il baffo. No, è il baffo. Vedi quel nero? Eccolo là, dietro. Mamma mia, quello lì è 200 kg. No, 200, no, 200 in tutto. Quello lì, vedi, quello sotto è una femmina. E come fai a sapere? Ma ce n'è uno anche là. Sì, ce n'è uno anche là. Ma questo qui è impressionante comunque. Sì, quello lì è più di 100 kg.